La prima volta vengono decapitate due curve in contemporanea. Su ordine della procura di Milano sono stati arrestati 18 capi ultra di Milano e Inter, tra cui Alex Cologno e Cristian Rosiello, finiti sui giornali nei mesi scorsi per la loro vicinanza al rapper Fedez. Ciao, sono Francesco Giano. Secondo la procura, i capi delle due curve avrebbero stretto un patto di non belligeranza. Obiettivo, controllare il potere e il flusso dei soldi attorno allo stadio di Milano. Attraverso estorsioni sulla vendita, dei biglietti, sui parcheggi, sulla vendita delle bibite. Al caso della curva dell'Inter c'è l'aggravante mafiosa. L'associazione avrebbe agevolato la cosca dei Bellocco, potentissima famiglia di Indrangheta, di Rosarno che avrebbe compiuto la scalata al potere all'interno dello stadio. Nel caso della curva del Milano c'è invece un quadro più ampio di pestaggi e spedizioni. Tra gli arrestati c'è Luca Lucci, celebre per la foto del 2018 insieme all'allora vicepremier Matteo Salvini, Cristian Rosiello, bodyguard di Fedez e coinvolto nel pestaggio del personal trainer Cristian Iovino, e Alex Cologno, tutti fotografatisi giorni fa in una vacanza insieme a Parigi. Come ha spiegato il procuratore saranno opportuni degli approfondimenti sui collegamenti con settori del mondo dello spettacolo da parte degli ultra. È un legame che spesso viene iniziato tramite la protezione accordata. I capi ultra sono legati a società di security o a società di autonoleggio con conducente, e stringono contratti di sicurezza con esponenti dello show business. Dall'altra parte il legame si può solidificare attraverso rapporti commerciali. Diversi capi ultra e rapper, totalmente estraneo l'inchiesta, hanno aperto assieme società che gestiscono negozi di tatuaggio e di parrucchieri. Nel caso dell'inchiesta tra le cose finite agli atti per adesso ci sono anche delle intercettazioni di Fedez con alcuni capi ultra relativi principalmente a due episodi. Da una parte il pestaggio a Cristian Iovino, avvenuto lo scorso aprile. È un caso che riguarda non solo i due personaggi ma anche le curve riconducibili a loro. Non è un caso che secondo una ricostruzione Cristian Iovino tra il pestaggio in discoteca e poi la spedizione punitiva avrebbe chiesto aiuto ai suoi amici ultra della Lazio. A loro volta sono gemellati con quelli dell'Inter affinché chiamassero quelli dell'Inter perché intervenissero difendendolo da quelli del Milan. Visto anche forse il patto di non belligeranza, gli ultra dell'Inter dicono no, noi qui non interveniamo. E secondo episodio contenuto negli atti dell'inchiesta, torno a ottobre 2023, Fedez sta preparando il lancio del soft drink bohem e contatta proprio Luca Luci, capo ultra del Milan, chiedere info sulla distribuzione del drink allo stadio. Tra le intercettazioni lui dice ma se io vi appalto a voi la distribuzione di bohem all'interno dello stadio e vi prendete una percentuale? Ecco, emergeranno altri dettagli, altro colore eccetera. Ma da tempo gli investigatori e anche la direzione antimafia stavano cercando di capire come i capi ultra e determinati personaggi riconducibili alla criminalità lombarda si stessero sempre più avvicinando al mondo dello show business che non è soltanto quello musicale o della scena rep ma ha anche a che fare con determinati personaggi famosi sui social. Poco tempo fa un investigatore parlando di questo mi diceva come i rapper siano quasi diventati per un certo tipo di criminalità quello che l'inchini sotto casa delle processioni erano per i criminali di un tempo. Un segno di potere e prestigio criminale. Da mostrare anche all'esterno, anche sui social, a costo addirittura di favorire gli investigatori.